Sempre ospite del punto vendita Merisport di Besozzo, per presentare un neoacquisto per quanto concenne il verbano calcio, Osè Spinal. Ciao Osè. Ciao a tutti. Osè Spinal, giocatore dominicano di nascita ma ormai da più di vent'anni in Italia. Tanto calcio professionistico, vuoi raccontarci un po' la tua carriera? Facciamo che tu ti fai conoscere a quello che saranno da qui in avanti i tuoi nuovi tifosi. Va bene, niente, sono partito nel settore Giovanni dell'Atalanta e poi ho fatto tre anni con qualche apparizione in Serie A. Poi dopo ho cominciato a girare in C1, Alzano, Albino Leffe. Ho avuto una parentesi di un anno in Serie D e poi sono ripartito con la C2 a Sanremo e con la C1 a Novara. E poi per finire sono stato a Cesena in Serie B. Allora, cosa ti senti di promettere ai tuoi nuovi tifosi? Sicuramente tanto impegno, tanta buona volontà e tanta voglia di salvarci perché secondo me questo Besozzo si merita la categoria e faremo di tutto per rimanerci. Grazie José, in bocca al lupo per quello che saranno questi cinque mesi. Ti auguro di fare tanti gol. Ti ringrazio, in bocca al lupo a tutti noi e spero che questo 2013 sia molto più positivo del 2012. Ciao, grazie mille. Ciao.